Un altro detenuto del carcere di Sollicciano che si è tolto la vita è il sessantottesimo dall'inizio dell'anno, 25 in più rispetto allo stesso periodo del 2021. I numeri diffusi dal SAP, sindacato di polizia penitenziaria, riaccendono di nuovo i riflettori sulla situazione interna al penitenziario fiorentino, che negli ultimi anni si è guadagnato l'etichetta di carcere peggiore d'Italia. Il sindaco Dario Nardella sull'argomento è stato molto chiaro in più di una circostanza. Converrebbe demolirlo e rifarlo da capo, questa la posizione del primo cittadino. Preoccupazione, peraltro, condivisa dal ministro della giustizia uscente Marta Cartavia, che dopo un sopralluogo a Sollicciano aveva parlato di un carcere in condizioni indecorose. Parole ormai datate, nel frattempo a Sollicciano si susseguono gesti estremi. L'ultimo, compiuto da un detenuto originario del Marocco di 29 anni. Per il momento si sta percorrendo la strada della ristrutturazione, con interventi che stanno cercando di riportare Sollicciano su standard accettabili.